Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli ha individuato nell'ingegnere Corrado Gisonni, professore ordinario di costruzioni idrauliche e vice direttore del Dipartimento di Ingegneria della Seconda Università di Napoli, la figura che andrà a rivestire il ruolo di commissario straordinario per la gestione del sistema del Gran Sasso e in particolare l'ITER che dovrà portare alla messa in sicurezza, una volta per tutte, del bacino idrico. Si sblocca così la questione del commissariamento dopo settimane di concertazione e la minaccia di strada dei parchi di chiudere il traforo per tutelare la società da eventuali nuovi rischi legali. Una volta accettata dal presidente della regione Abruzzo, la nomina dovrà essere formalizzata con un decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri. Il commissario straordinario per il rischio idrico del Gran Sasso dovrà gestire l'intervento per tutelare l'acquifero della montagna abruzzese che riguarda circa 700.000 cittadini dal rischio inquinamento dovuto alla presenza delle autostrade a 24 e a 25 e dei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso. Per il presidente della regione Marco Marzillo il commissariamento è un passo avanti importante per risolvere un problema che si trascina da tempo. Pochi tre anni di mandato che la norma del MIT affida al commissario straordinario fino al 2021. I lavori così complessi dureranno molto di più ma la durata potrà essere rinnovata, sottolinea Marzillo. Adesso l'urgenza è mettere il commissario Gisonni nelle condizioni di fare i suoi studi per capire l'entità e la tipologia degli interventi sulla base dei quali chiedere eventuali ulteriori risorse al governo. Per la messa in sicurezza del bacino acquifero il governo ha stanziato infatti 120 milioni di euro a fronte dei 170 richiesti dalla regione Abruzzo, soldi per Marzillo appunto ancora insufficienti. Ma ciò che conta è che l'esecutivo si sia assunto la responsabilità di gestire il problema. Anche perché, dice Marzillo, l'autostrada è di proprietà dello Stato e i laboratori di fisica sono del MIUR, strutture statali che impattano con la montagna abruzzese. La loro messa in sicurezza deve essere a carico dello Stato.